William Congdon, un'avventura dello sguardo, un titolo che ho preso da questo bellissimo DVD che sicuramente vi consiglio. Un incontro casuale, leggendo un articolo, mi trovo a corredo dall'articolo appunto un quadro, un crocifisso di William Congdon. Da qui nasce appunto la curiosità, la voglia di capire, di conoscere e di saperne di più. Quindi queste letture che poi sono trasformate in una proposta didattica che ora vi presento, vi propongo. Allora, seguiremo questi punti, una breve biografia, Crucifissi, che è il centro, il cuore di questa presentazione. La risposta a questa domanda è attraverso un articolo di Massimo Cacciari, perché Dio si è fatto uomo, perché è un Dio uomo. Innanzitutto la bibliografia, da Providence alla Cascinazza. William Gosden Orcondo nasce a Providence, Rhode Island, il 15 aprile del 1912. I suoi genitori, Gilbert Morris e Caroline, appartengono a due illustri e facoltose dinastie di industriali protestanti. William cresce in un ambiente agiato e pieno di possibilità, e lo abitua fin da piccolo a viaggiare e a conoscere. L'infanzia è segnata però anche da una profonda ferita, costituita dal difficile rapporto con il padre, padre di cui William si sente affettivamente rifiutato e incompreso. Si sostiene appunto che sia questo rapporto difficile con il padre che risveglia in lui il dono creativo. E appunto questa necessità di aprirsi in un nuovo spazio, uno spazio che sia suo, personale e di libertà e di creatività, è appunto questa apertura al mondo dell'arte. Necessità di trovare uno spazio in cui definire se stesso, lontano dalle implacabili aspirazioni paterne, radicate nell'affarismo e nel puritanismo protestante. Nel 1940 appunto scoppia la Seconda Guerra Mondiale, negli Stati Uniti entrano al conflitto e Condon si ruola nell'American Field Service, un servizio volontario di sanità, organizzato durante la Seconda Guerra Mondiale appunto, e viene addestrato come autista di ambulanze, partecipa alle battaglie delle Alamein e successivamente viene assegnato alle truppe di invasione in Italia, dove in Abruzzo prosegue il lavoro con l'ambulanza, prestando assistenza anche ai civili colpiti dalla guerra. Questa attività nell'American Field Service lo porterà a Bergen-Belsen, al campo di concentramento e di sterminio di Bergen-Belsen. Arrivò tra i primi di maggio, trovandosi di fronte alla visione apocalittica di 13.000 cadaveri ancora insepolti, gli altri 10.000 collocati in una gigantesca fossa comune e di altre migliaia di moribondi. È stata un'esperienza questa che lo ha segnato profondamente, come possiamo ben immaginare. Abbiamo anche alcune testimonianze di alcuni suoi disegni, alcuni suoi schizzi, che riportano questa esperienza che lui ha vissuto nel campo di sterminio. Davanti alle cataste di cadaveri, e poi nei volti dei civili sofferenti, nei viaggi che lui ha fatto, per esempio in India, Kondon scopre che la pittura intesa come donazione di sé è la sua vocazione per la vita. Finita la guerra, torna a New York e va a vivere in una stanza da 15 dollari in Stanton Street nel Bowery, un quartiere di tuguri, incadenti, inabitato a miseria, morte e sofferenza. E qui vive un po' l'esperienza del male da ridimere che aveva già visto a Bergen-Belsen. Però qui non rimane tantissimo, abbandona questo quartiere e si trasferisce a Park Avenue, in cerca di altre immagini e altri stimoli. Nell'elemento importante della sua vita, un passaggio fondamentale e importante è appunto il movimento dell'action painting. Inizia a frequentare anche personaggi come Peggy Guggenheim, Betty Parsons, gallerista e tutti gli artisti della nuova generazione, tra cui i personaggi facciamo parte di questo movimento, vediamo anche in questa fotografia Rochko, Motherwell, Bernat e Newman. Condon prosegue il suo viaggio da solo. Già intorno al 1950, mentre si allentano i contatti con l'ambiente artistico americano, mette a punto un personale linguaggio figurativo, accompagnato da una tecnica personale ormai immatura. Nel 1951 il suo peregrinario lo conduce nella città di Assisi. Qui, nel città di San Francesco, incontra una persona che sarebbe molto importante per il suo percorso, Don Giovanni Rossi, fondatore della Procevitate Cristiana, un'associazione attorno alla quale gravitano molti artisti di varia provenienza. Ricordiamo anche che nei primi anni Sessanta, nel Sessantadue, arrivò alla Procevitate anche Pierpaolo Pasolini. E fu proprio qui, alla Procevitate di Assisi, che Pierpaolo Pasolini, leggendo appunto un Vangelo che aveva trovato nel cassetto della sua stanza, ebbe l'intuizione, iniziò a pensare a quello che poi diverrà, il Vangelo secondo Matteo. Nel 15 agosto del 59 riceve il battesimo nella Basilica di Assisi, e si trasferisce in questa città, dove risiederà appunto per circa vent'anni. Vent'anni che comunque lo vedranno protagonista di numerosi viaggi. Qui è un dipinto che appartiene appunto ai primi anni dopo la sua conversione, un dipinto di carattere religioso, questa appunto è una natività. Alcascinazza, alla fine degli anni Sessanta, l'Assisi e il Subiaco, che sono state un po' le sue case, non sono più adatti alla vita e al lavoro che stava svolgendo, anche all'età che stava inziano da avere. E per cui viene proposta una sistemazione alla bassa milanese, a Guido Gambaredo, una casa studio annessa a un monastero benedettino, meglio conosciuto come Cascinazza. Ascoltiamo dal punto di vista artistico un breve commento di Filippo D'Averio. Molto particolare è il caso Condon perché lui rappresenta uno di quei rari casi di americani che scoprono l'Europa e dopo aver scoperto l'Europa non riescono più a tornare indietro. Lui va a guidare l'ambulanza nella Seconda Guerra Mondiale esattamente come per esempio Julian Green è andato a guidare l'ambulanza della Prima Guerra Mondiale. Sono curiosamente parallele le due esperienze perché tutti e due poi si convertono al cattolicesimo, tutti e due scoprono la complessità europea e non possono più tornare nel mondo ad un'unica dimensione della Marcuse che è il mondo americano. Ha un altro parallelo molto interessante, lui con un altro artista che in quegli stessi anni sta tradendo l'americanità e va verso l'Oriente passando dall'Europa e non dal Pacifico, che è Mark Toby. Anche Mark Toby verrà dimenticato dal mercato americano perché in un qualche modo è vero che è un grande artista degli anni Sessanta ma poi diventa un artista dimenticato con la ripresa di coscienza americana degli anni Ottanta. Appartiene a un mondo che si guarda con diffidenza perché è il mondo che ha parlato troppo con quei complessi uomini d'Europa. Questo è un po' i paragoni che si possono fare sul caso Compton. Lui ha una cosa specifica che è veramente interessante come gestualità americana che lui partecipa al mondo generale della pittura che c'è intorno alla Parsons Gallery è un po' come quelli di altri artisti che passano lentamente o inesorabilmente verso l'astrazione è che l'astrazione americana non ha materia. Infatti anche Mark Rochko è ciò che è in quanto non ha materia. Quando arrivano in Europa scoprono la materia e tutto il suo percorso è un percorso di scoperta della materia. Allora questo modo di diventare un astratista attraverso l'europeismo quindi l'italianità mediterranea delle materie e arrivare da lì fino a una scoperta di presa di coscienza che lo porterà a conversione ne fa un personaggio oggi particolarmente emblematico dove l'egemonia puramente americana è crollata insieme alle banche new yorkese. Lui è oggi un uomo interessante perché corrisponde a un dialogo possibile e su queste basi credo che bisogna rinventare anche un dialogo per il futuro. Forse un'ultima... Siamo tutti moderni, ma è uno che capisce che il messaggio europeo-mediterraneo è particolarmente importante per la propria identità e che l'identità si forma nel dialogo, non nella imposizione. In questo senso credo che sarà negli prossimi anni un artista che verrà riguardato con un occhio particolarmente felice. Il problema che succede anche per Jackson Pollock, no, ma anche per Mac Tobi, perché anche Mac Tobi è un artista oggi dimenticato. Proprio per questo dialogo con l'Europa, che invece è così fondamentale per la cultura americana. La parte importante di questa presentazione riguarda appunto i crucifissi, che hanno occupato l'attività artistica, ma oserei dire anche il percorso personale dell'artista per parecchi anni. L'arte sacra in generale ha a che fare con un impossibile possibile, scrive Morasso. È bellissimo questa espressione. Tentativo di rendere possibile attraverso una tela, un quadro, un affresco, una scultura, quello che appartiene al divino, al mistero, all'aldilà, al personale, per cui è un impossibile che deve trasformarsi in impossibile. Allora, il primo aspetto è che tutti i quadri che ha dipinto Condon non riguardano le croci, ma il crocifisso. Significativamente, perché la croce è solo uno dei molteplici strumenti di esecuzione di morte, ma il crocifisso chiede di fissare lo sguardo scavando sull'uomo. Per cui il primo passaggio è il crocifisso e non la croce. Parlando di crocifissi, il crocifisso è lo stesso artista che ha indicato come riferimenti formali i crocifissi ligni italiani del 200, per cui spicca il maestro di San Francesco, Cimabue e Lorenzetti. L'immagine di Cristo è connotata dal motivo evangelico dell'inclinatio capitis e il corpo di Cristo si presenta solitario, sebbene ancora intero di simboli. Il corpo reclinato, il capo scusate, il capo reclinato. Perché il crocifisso non la croce? Lo sparire della croce come simbolo o forma riconoscibile come segno lascia libero il corpo di Cristo di sciogliersi via via, fino a quel nulla che è il tutto, che è la Ressurrezione. Dunque ci si concentra sul corpo di Cristo, sul suo dolore, sulla sua sofferenza, sul suo contattare con l'esperienza terribile, atroce, l'ultima che accomuna tutti gli uomini, che è la morte. E in questo tutto, in questa morte, appunto, cogliere quello silancio di novità che rappresenta il cristianesimo, cioè la Ressurrezione. Diciamo appunto tantissimi crocifissi, quasi 200, un'ossessiva serialità. Questo perché vuol dire tenere lo sguardo fisso sul corpo umano, che radicalmente è soltanto narrato nella sua condizione più autentica del crocifisso. Un corpo che è epifania di morte, di corruzione, di disfacimento cinereo, in cui attraverso l'annientamento è possibile contemplare il figlio dell'uomo, l'umano, quel Cristo che ha narrato e narra Dio e il suo amore folle, che lo porta ad assumere la debole carne dell'uomo votata alla morte. Nei primi crocifissi, anche qui però c'è un'evoluzione stilistica e artistica, ma anche di comprensione in questo percorso che farà l'artista. Nei primi crocifissi c'è l'appeso senza volto, solo un capo reclinato, con i capelli che cadono assieme al corpo bianco, capelli che addirittura sembrano precipitare in avanti. E' l'esempio di questo crocifisso 1b del 1960. Poi passiamo ad un altro stile, nell'amorevole nuvola, come la chiamava l'artista. E appunto perché in questi crocifissi non c'è nulla di definitivo, ecco apparire l'amorevole nuvola che avvolge il capo, sprazzi di luce dorata, quasi promessa di risurrezione. E qui in questo crocifisso 165-177 lo vediamo attorno al capo, questa amorevole nuvola. Il percorso continua e troviamo una semplicità maggiore. Crocifissi senza volto, racciate con semplicità, pochissimi colpi di spatola, fino ad essere colpi di spatola sovrapposti, un corpo in forme e senza articolazioni, una colata di cenere mescolata a colore, un grumo di lava e di silenzio, come ad esempio in questo crocifisso 54 del 1972. Una larva, non uomo. Adamo, il terrestre, Adam, terra. L'uomo fatto di cenere e impastato di male e di dolore. Larva, non uomo. Rifiuto umano, senza ossa articolate, riprendendo il salmo. Eppure è in questo cenere che Dio si è compiaciuto e ha compiuto la sua teofania, si è manifestato. Così è il percorso che ci ha fatto fare Enzo Bianchi. Thomas Merton, questo celeberrimo monaco, così commenta la pittura di Condon. Spira, nella pittura di William Condon, un'area di teofania che impone il silenzio e dovrebbe imporlo sia al religioso, sia al critico d'arte. Abbiamo visto appunto il crocifisso, non la croce, un corpo che si fa sempre più essenziale, un corpo senza volto, un volto che a volte era coperto dai cappelli, a volte era proprio in forme. Ci sono dei riferimenti molto chiari, no? Non solo si fa silenzio di fronte ai crocifissi di Condon, come ci suggeriva Thomas Merton, ma ci si chiude la bocca, come alla visione del servo senza volto del profeta Isaia. Chiudersi la bocca, ammutolire in silenzio, sorge quasi un desiderio istintivo di coprirsi il volto per non vedere, simultaneamente all'essere attratti dal crocifisso, spinti a avvolgere su di lui lo sguardo. è il famoso testo di Isaia 53, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. era disprezzato e non avevamo alcuna stima. eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. In questa grande larva ci ritornano in mente le parole pronunciate da Gesù, quel Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, riprendendo il Salmo 22. È bellissima questa interpretazione di Enzo Bianchi, ma potrebbe anche essere Dio mio, Dio mio, perché ti sei abbandonato e sei precipitato facendoti uno di noi. e la risposta della fede è semplice, ma nello stesso tempo estremamente alta, ma profonda, quasi incomprensibile, per amore. Questo crocifisso, o come lo chiamava l'artista Grande Larva, è continuazione, se non addirittura summa, di tutta l'esperienza umana e pittorica che venne innescata dal viaggio indiano in India, dipinta utilizzando un impasto di ceneri biancastre ed emblema del corpo mutilato di Cristo. Condon dilata e pone in postura verticale i derelitti stesi nelle strade indiane per trasformarli in una sola forma capace di contenere tutta l'umanità redenta nella croce. Il crocifisso, come colui che fa carica su di sé, tutte le sofferenze del mondo, le sofferenze degli ultimi della Terra, quelle che lui incontrava nei suoi viaggi. Qui invece è Massimo Cacciari, che ci parla appunto di anastasis, cioè la risurrezione, questo alzarsi. Osservando la stessa struttura compositiva dei crocifissi condon, è questo il dramma che sorprende e sconvolge. Tutto vi sembra precipitare. La tessitura cromatica è lacerata catastroficamente. Eppure proprio questo parla di anastasis. Proprio lo sprofondare nel buco di questo dolore diventato corpo parla di risurrezione. E' lo stesso condon che ci conferma in queste letture, in queste interpretazioni. Lo sparire della croce, come simbolo o forma riconoscibile, come segno, lascia libero il corpo di Cristo di sciogliersi, via via, fino a quel nulla, che è il tutto, che è la risurrezione. E qui ho messo in uno sguardo sinottico, cioè contemporaneo, il percorso stilistico dell'artista, dal crocifisso 1B del 1960, al senza volto, al crocifisso 14 del 1964. E Condon commenta così, l'amorevole nuvola coinvolge testa e braccia di Cristo. Il corpo svanisce nella nera nebbia del dolore e le gambe non sono inchiodate, ma diventano gli stessi chiodi. Crocifisso 54 del 1972, pochissimi colpi di spatola, fino ad essere colpi di spatola sovrapposti. E l'ultimo a destra, il crocifisso 64 del 1973, sono scomparse le articolazioni delle braccia e delle gambe. Crocifisso 165, ritorna il concetto come visto prima di amorevole nuvola. Nel crocifisso 90, 1974, questa piatta, schiacciata colata di lava secca, il corpo di Cristo è un ovale, allungato nell'obico, a un solo passo dall'informe, informe che gioca a nascondino tra emersione e dissoluzione. Il crocifisso 105, sempre del 74, una lunga barra, un deciso tratto verticale del corpo osso, circonfusa da un debole lucore. Non so se riuscite a notarlo, eccolo qua, con un debole lucore che lo circonda. Il crocifisso 111, del 1974, anche qui riprende il tema della lunga barra, un deciso tratto verticale del corpo osso, circonfusa da un debole lucore. Leggiamo quello che l'artista stesso ha scritto nel suo tocchino, nei suoi appunti che appunto scriveva e annotava durante il suo percorso. 3 febbraio, del 64, l'amorevole nuvola coinvolge testa e braccia di Cristo. Il corpo svanisce nella nera nebbia del dolore e le gambe non sono inchiodate, ma diventano gli stessi chiodi. 13 febbraio, 66, per il numero 90, il 74, che sembra grande, bisogna vedere se la forma dell'immagine riesce ad affermarsi attraverso la calata della lava. Chi è talmente una calata? Non so. Chi può misurare il silenzio che è al fondo di 90, larva nero grande? È quello al fondo di Cristo 55, crocifisso 45. 45 appare tutto silenzio e certo è denso di silenzio, ma il silenzio è come sostanza del quadro. Chi sa misurare i due silenzi? Il silenzio appunto di cui ci parlava Thomas Merton. Primo aprile 74, il nero per me è origine di luce, è la morte cristiana, non è superficie, non è solo supporto, io vivo il nero, perciò è sempre carico di luce. Con l'idea appunto che parlava anche prima Massimo Cacciari dell'anastasis, di questo sprofondare in questo nero, in questo buco, in questo dolore che però riporta a una esperienza nuova. Viene da pensare a quello che diceva Giovanni della Croce. Più salivo in alto, più il mio sguardo si offuscava e la più aspra conquista fu un'opera di buio. E qui abbiamo pronto un disegno dello stesso Giovanni della Croce. Un'altra lettura su questo nero di cui ci parlava Condon, c'è il famoso rasso, il quale dice che un corpo ridotto allo scheletro ha una dolente geometria circonfusa di buio, più nera del nero, dicono gli alchimisti. L'annigredo significa putrefazione, decomposizione. Il corpo si riduce la materia prima dalla quale originò. è interessante questo riferimento con l'alchimia e l'annigredo appunto degli alchimisti. La putrefazione è così efficace che distrugge la vecchia natura e la vecchia forma dei corpi in decomposizione e trasmuta in un nuovo stato dell'essere per dar loro un frutto completamente nuovo. Tutto ciò che vive muore, tutto ciò che è morto si putrefà e trova nuova vita. Colui che conosce il mistero del crocifisso è iniziato a tutti i misteri e al mistero della vita è Massimo il confessore. E arriviamo alla domanda perché Dio si è fatto uomo? Perché un Dio uomo? Come diceva appunto la frase che avevano letto prima di Enzo Bianchi Dio mio, Dio mio perché ti sei abbandonato e sei precipitato facendoti uno di noi? Kurdeus Homo questa è l'interrogazione incessante di Kondon è forse l'interrogazione dell'arte figurativa dell'Europa o cristianità che ha per questo nel crocifisso il suo topo sulla sua argomentazione più estremo perché Dio assume questo volto disfatto? Perché patisce questa morte maledetta? Perché si fa uno squarcio bellissime quelle barre che abbiamo visto prima nei quadri di Kondon perché contraddice se stesso fino a tal punto un Dio uomo quella creatura i cui tratti vanno disfacendosi e i quadri di Kondon ma anche il materiale che Kondon usa oltre la cenere lo esprimono molto bene il cui dolore delira dai limiti della sua carne per trasformarsi in dolore del corpo del mondo diciamo prima appunto quel crocifisso che posto in verticale erano quei corpi che lo vedeva stesi sulle vie delle città quella creatura non chiede se è stata abbandonata ma perché lo è stata cioè perché un abisso si spalanca tra quel corpo appeso e la gloria la grandezza la maiestas domin Kondon ha visto un buco nel suo crocifisso un abisso appunto ormai non si dà più figura non si intuisce più distinzione il crocifisso non sembra indicare altro che l'abisso che divide non è follia volersi incarnare dice Massimo Cacciari e allora vediamo nella Nuovo Testamento questi concetti che sembrerebbero un po' arditi eppure ci sono questa è la lettera ai filippesi un testo celeberrimo lo sarei dire abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù il quale pur essendo di natura divina non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini apparso in forma umana umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce per questo Dio l'ha esaltato e ha dato il nome che ha il di sopra di ogni altro nome di fronte a questo mistero si erano appunto i crocifissi non solo di Condon ma appunto Massimo Cacciari ci ricorda che è un percorso che attraversa tutta l'arte cristiana tutta l'arte europea che appunto si confronta con il mistero cristiano per esempio e li accenno soltanto perché non è certo il tema Grunewald è interessante notare questo sfondo il nero e mi colpiscono sempre quelle mani come degli artigli che sembrano aggrapparsi a questo cielo che lo sta inghiottendo questo invece è Diego Velasquez Cristo crocifisso 1632 è interessante avevamo parlato prima di questa di questa luce che circonda il crocifisso e questo questo chiarore questa luminosità che emerge e molti critici dell'arte vogliamo vedere appunto nel nella crocifisso dunque nel colui che sta morendo è già comunque presente accennata la risurrezione la luce appunto e anche qui è interessante notare un altro elemento che congiunge queste due opere il capo reclinato e come ho parlato all'inizio e i capelli che coprono questo volto tra tutte quelle immagini la più affine a quelli condon dice Cacciari e pare il crocifisso disegnato da San Juan della Cruz uno scheletrico squarcio colto dall'alto dal culmine dell'abbandono poiché questa è l'icona l'immagine di Cristo che conda un patisce quella del radicale abbandono di più egli non dipinge un'immagine ma il grido dell'abbandono e allora ho fatto questo confronto a sinistra appunto il disegno di Giovanni della Croce che appunto realizzò nel suo soggiorno ad Avila per il 72 il 77 e un altro quadro è Salvador Dalì che appunto ha ripreso quel disegno e l'ha reinterpretato con il suo stile è bellissimo anche questo questo confronto secondo me beh questo perché Dio si è fatto uomo questo abbandono questo corpo che esprime il dolore e la morte non poteva mancare Hans o il bagno il giovane il corpo di Cristo morto nella tomba del 1521 e qui mi permetto di citare Fiodor Dostoevsky tra l'altro è stata un'esperienza sua personale la moglie nei suoi appunti lo scrive che quando erano nati a Basilea l'avevano visitato aveva quasi paura che l'emozione la grande la forte emozione che Dostoevsky aveva provato di fronte alla vista del quadro lo potesse portare addirittura ad una crisi epilettica esperienza talmente forte che lui ha travasato in una sua opera molto bella molto importante che è appunto l'idiota e dice quel quadro esclamò ad un tratto il principe è preso da un pensiero improvviso quel quadro ma quel quadro potrebbe anche far perdere la fede a qualcuno l'esperienza appunto del contattare quel buco di cui si parlava prima il buco della storia quel nero la morte il dolore e qui c'è il contrasto che vorremmo sottolineare prendiamo la prima letta dei Corinti cosa vuol dire questo Cristo crocifisso il crocifisso come qualcosa che diventa difficilmente comprensibile che è uno scandalo e poi siamo troppo abituati a vedere i crocifissi per noi diventa quasi un amuleto per qualcuno forse anche questo ma in realtà nel testo di Paolo viene sofferenato qualcos'altro gli ebrei infatti vorrebbero miracoli e non ebrei si fidano solo della ragione noi invece annunziamo Cristo crocifisso e per gli ebrei questo messaggio è offensivo mentre per gli altri è assurdo è assurdo come fa Cristo Dio a essere crocifisso a soffrire a soffrire addirittura una morte una tortura una condanna a morte ma per quelli che Dio ha chiamato siano essi ebrei o no Cristo è potenza e sapienza di Dio perché la pazzia di Dio è interessante questo termine è la pazzia di Dio è più sapiente della sapienza degli uomini la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini e penso che in questo testo trova conferma appunto tutte le riflessioni che abbiamo fatto finora pazzia crocifisso è pazzia crocifisso è debolezza di Dio era talmente sconcertante l'idea di un Cristo crocifisso che nei primi secoli la Chiesa ha dovuto ricordare ad affermare con autorevolezza che le sofferenze di Cristo non furono simboliche ma reali come reale fu la morte è uno scandalo appunto questa morte è uno scandalo la sofferenza come fai ad accettarla Cirillo di Gerusalemme infatti scrive dobbiamo dunque impararlo tutto quello che Cristo ha sofferto l'ha sostenuto per noi e per la nostra salvezza in verità e non in apparenza veramente infatti a Cristo toccò una morte reale fisica la sua anima fu separata dal corpo e fu vera la sepoltura faccio un accenno velocissimo per esempio nell'Islam nell'Islam si parla di Gesù si parla della sua però Gesù non morì sulla croce infatti nella sura 3 verso 55 troviamo e quando Allah disse o Gesù ti parrò un termine e ti leverò a me e ti purificherò dai miscredenti parrò quelli che ti seguono al di sopra degli infedeli fino al giorno della risurrezione e tornerete tutti verso di me e io giudicherò le vostre discordie e la sura 4 li abbiamo maledetti per via della loro miscredenza e perché dissero contro Maria calunnia immensa cioè qual è questa calunnia abbiamo ucciso il Messia Gesù figlio di Maria il messaggero di Allah invece non l'hanno né ucciso né crocifisso ma così parve loro coloro che sono in discordia a questo proposito restano nel dubbio non hanno altra scienza e non seguono altro che la congettura per questo non l'hanno ucciso dunque lo scandalo del crocifisso mettersi di fronte a questa dolore a questa sofferenza a questa morte non è facile qui infatti propongo questa bellissima raffigurazione appunto Gesù portato dai due angeli dal minareto di Damasco per cui Gesù viene raffigurato anche nell'Islam però ovviamente non certo sulla croce e termino con questa poesia di Davide Maria Turoldo che secondo me è un bellissimo commento a correre di tutto quello che abbiamo detto finora no credere a Pasqua non è giusta fede troppo bello sei a Pasqua fede vera e al venerdì santo quando tu non c'eri lassù quando non una eco rispondi al suo alto grido e a stento il nulla dà forma alla tua assenza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti